Ma sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Impresa da Guinness dei Primati, quella che è che ha messo a punto a Parma, perché mai nella sua storia era riuscita per tre volte ad andare in vantaggio, tre volte in una stessa partita lontano da casa. Un vero e proprio record perché significa che la tele d'acciaio, significa che il Cagliari scappa e non insegue. Se nel passato era stata soprattutto la capacità di recuperare i risultati che aveva messo in evidenza la squadra rosso-blu, che prima subiva e poi si svegliava, una volta ha dimostrato per tre volte il desiderio, la forza, la caparbietà di andare anche lontano da casa per cercare il successo. E' un dato che non va sottolineato in modo marginale, perché deve essere invece esaltato per effetto di una mentalità diversa, una mentalità che nel dare per poi riuscire a realizzare, stavolta invece è assolutamente propositivo anche nella ricerca di quello che è il risultato. Direte voi, la prima volta che vince ci esaltiamo facilmente, intanto la prima volta che vince in una caratteristica che mai era successo nella storia rosso-blu. Quindi con questa fiducia, con questa esaltazione, partendo da quelle che sono le cose positive, ma sapendo anche quelle che sono le cose negative, bisogna andare ad affrontare le prossime partite conoscendo una squadra che ha un carattere certamente diverso rispetto al passato. Al passato capitava che si andasse sotto, che si recuperasse il risultato, magari che si andasse in vantaggio, ma tre volte nella stessa partita, ripeto, mai era capitato. Adesso la Juventus, la Juventus che verrà affrontata ancora una volta in trasferta. E questo spirito in trasferta è un'altra delle grandi novità, perché abbiamo sottolineato le tre volte che si è andata in vantaggio, ma non abbiamo preso forse in considerazione quanto questa cosa sia capitata in trasferta. Quante volte in trasferta invece l'atteggiamento sia stato tutt'altro che votato a cercare il successo, ma invece proiettato al minimo risultato, nella speranza di non prenderle con un atteggiamento un po' ad orecchie abbassate, che nel passato recente era diventata quasi un'abitudine, una cosa che vedevamo gara dopo gara. Contro la Juventus che si è ieri presa la soddisfazione di vincere la partita, proprio in un modo a sua volta rocambolesco, perché è andata in svantaggio per il gol di Sesco, e poi è andata a pareggiare con Vlaovic nel secondo tempo, e con un uomo in meno ha subito prima il nuovo vantaggio della squadra di casa, ma dopo ha capovolto il risultato con la bocca di fuoco Vlaovic, che è chiaramente il giocatore da prendere in considerazione con maggiore attenzione, perché ha ritrovato il gol e sappiamo quanto lui riesce a far valere questa caratteristica. Peraltro contraddizione assolutamente favorevole con la squadra cagliaitana, basti ricordare la splendida partita del Cagliari contro la Fiorentina, in cui lui giovanissimo entrò e fece due gol, quasi a rovinare la festa, o comunque a dargli un sapore un po' più acre di quello che sarebbe stato invece senza la sua presenza. Bene, andiamo con tanta fiducia, andiamo con tanta fiducia, con l'idea di poter giocare la nostra partita, di essere più positivi, e chissà che le fatiche della Juventus non si possano sentire. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. MabManagement.it